Al via Grosseto le udienze preliminari per il neofragio della Costa Concordia. Si deve decidere quanti andranno sotto processo oltre al capitano Francesco Schettino. All'esame nella prima giornata le richieste di costituzione di parte civile avanzate dai passeggeri, dall'isola del Giglio e dalla Costa Crociere. Le vittime non sono soddisfatte delle offerte della compagnia. Ci risulta che le ultime trattative si sono attestate sui 27 mila euro come ultima offerta della Costa Crociere. Noi ci costituiamo in giudizio chiedendo un risarcimento di un milione di euro per passeggeri. Una richiesta che l'avvocato della compagnia liquida con una battuta. Anche 10 non sarebbe male, 10 milioni. Ci sarebbe la corsa a salire sulla nave sperando in un neofragio per poter essere salvati e risolvere i problemi della propria vita. Credo che siano stupidaggini come voi. Il giudice deve decidere se ammettere le richieste di circa 200 parti civili. I sei accusati devono rispondere di omicidio plurimo colposo e lesioni, cui si aggiungono per schettino abbandono di nave, naufragio colposo e altri reati. L'incidente, avvenuto nel gennaio 2012 perché la nave si era avvicinata troppo alla riva, provocò 32 morti. Grazie.